La scelta di non correggere mai gli altri è pericolosa prima ancora che perdente. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon caffè. In questi giorni in cui nel ciclo delle letture delle sante messe è tornato in auge il tema della correzione fraterna, mi è tornato in mente un episodio capitato alcuni anni fa nel mondo del lavoro. E cioè aver incontrato un titolare di un'azienda che aveva scelto coscientemente di non dare mai un feedback negativo, una correzione, un parere negativo ai propri collaboratori perché riteneva che questo facesse il loro male, riteneva che non si debba mai andare a mettere in luce quello che non funziona. Un errore gravissimo. Un errore gravissimo per due ragioni principali. La prima è che abbandoni l'interlocutore a se stesso e quindi non gli stai dando realmente una mano. La seconda è che alla fine scoppi. Vediamo di analizzarli con un pochino più di dettaglio. Io credo che nei compiti di un capo, di qualcuno che ha autorità sulle altre persone, e autorità non vuol dire autorevolezza, non vuol dire autoritarismo, avere autorità vuol dire avere una responsabilità nel far sì che l'altra persona cresca, nel prendersi cura della persona, averla sul proprio cuore, sulle proprie spalle per aiutarla a fare strada, per aiutarla a capire come fare. E ci sia anche quello di correggere le persone, nel modo opportuno, nel modo giusto, ma segnalare l'errore, segnalare che sta facendo male, perché sennò alla fine del percorso uno dice eh però non hai fatto nulla di quello che ti avevo chiesto, ma non me l'hai mai detto, non me l'hai mai suggerito. Anzi, semmai abbandonare le persone a se stesse, che è un danno. Randy Pausch, nella sua bellissima lezione, The Last Lecture, Randy Pausch morì poco dopo, dopo questo favoloso intervento che si trova in rete, racconta di un suo coach che continuava a correggerlo e lui ci rimaneva male perché tra l'altro era abbastanza duro, secco e un giorno incontrandosi con il vice allenatore nello spogliatoio si lamenta un po' e l'altro gli dice non devi lamentarti perché finché ti correggi vuol dire che crede in te, vuol dire che ti ha a cuore, quando smette di farlo vuol dire che non c'è più niente da fare con te. La correzione fatta bene è un grandissimo aiuto per tutti, tant'è che appunto viene suggerita come correzione fraterna. E poi l'altro punto è che alla fine non ce la fai tenertelo dentro. E allora cosa fai? Metti in atto dei piccoli mezzucci, non ti rispondo, non ti rispondo subito perché sono arrabbiato con te ma non te lo dico, è un po' quel come va cara? No, no, tutto bene. Ci sono problemi? No, nessun problema, che alla fine sappiamo è il presupposto per la tempesta, per il grande uragano che ci verrà addosso. E allora cosa fai? Oltre a mettere in atto questi mezzucci, lo racconti con le altre persone, dici ma si comporta proprio male, non ce la faccio, non ce la faccio proprio a capire come mai va così male, perché non fa queste cose qua. La cosa migliore è dirlo. Dillo al tuo fratello, se non ti da retta dillo in presenza dei testimoni, se non ti da retta ancora dillo alla presenza di tutta l'assemblea e poi solo allora lascialo perdere. Quindi il suggerimento è aiutiamoci fraternamente nel modo corretto a migliorare. E se qualcuno ha consigli da darmi, correzioni, critiche, fatele. Benissimo, sarà un grande privilegio per me poter imparare, continuare ad imparare, come ho detto anche in qualche caffè fa. Grazie. Grazie.